Ecco il tiro, ribatte il difensore, attenzione pericolo! Mertens, punta l'area, palla che finisce sul palo, Kevin De Bruyne, occhio al traversone, Lukaku! La traiettoria verso il centro, e c'è la deviazione sopra la traversa! Mertens, punta l'area, pallone profondo, pericoloso! Giaccia al gol! Occhio al tiro della bandiera, Soong Yon-Kee! E' un minzoni! E' tutto solo! Stadi tirati a lucido per questa edizione dei mondiali... Toivonen! Occhio al corner di Toni Kroos, va con i pugni il portiere! Attenzione a Reus, la parada del portiere che dice di no! E' il momento della sostituzione, esce dal campo Marco Reus! Müller, infallibile dal dischetto! Aranjament, Werner! Traxler! 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 Grazie a tutti